salve e benvenuti a questo quarto appuntamento col ciclo di video lezioni un secolo di migrazione in Italia 1920-2020, organizzato dall'Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche insieme a Biblioteche di Roma. In questo ciclo stiamo provando a raccontare la lunga e complessa storia delle migrazioni in Italia nei cento anni che separano il 1920 dall'oggi. Con la lezione di oggi affrontiamo il miracolo economico negli anni Sessanta, quindi affrontiamo una fase di grandi trasformazioni per l'economia e la società italiana. Partiamo dal 1961, come abbiamo visto nella scorsa lezione, in quest'anno il Parlamento vota l'abrogazione di quei vincoli alla mobilità territoriale che avevano connotato la fase precedente, che erano stati impostati sotto il fascismo e avevano determinato una condizione di illegalità per gli spostamenti interni da comune a comune, da campagna a città negli anni precedenti. Questa abrogazione arriva tardi, questa scelta da parte del legislatore arriva solo nel 1961 e se andiamo a vedere il dibattito parlamentare che porta a questa scelta, è un dibattito in cui i toni di tutti i relatori sono toni di preoccupazione. Si capisce che è una legge che non funziona perché gli spostamenti avvengono, che è una legge ingiusta, perché obbliga i migranti interni a vivere in condizioni di illegalità, ma si teme che togliere questa legge, per quanto inefficace e ingiusta, possa portare a una perdita completa di controllo su questa grande mobilità interna che attraversava il Paese. Addirittura c'è chi dice se noi oggi togliamo questo provvedimento, questa legge, rischiamo di avere le città sommerse dall'immigrazione dalle campagne. Questo non avvenne, ma effettivamente l'Italia in quegli anni era attraversata da intensissimi spostamenti di popolazione. Vediamo qui alcune dati dell'Istat legata agli spostamenti di residenza, quindi all'anagrafe, agli spostamenti certificati dall'anagrafe, quindi qui siamo in una statistica che ci racconta dell'immigrazione legale, dell'immigrazione quindi nel momento in cui viene certificata dagli uffici comunali. Ecco, vediamo come le regioni del nord-ovest, quindi le regioni del triangolo industriale, quelli dell'Italia settentrionale industriale, sono regioni che vedono un bilancio demografico attivo sempre più importante per tutti gli anni 50 e che raggiungono proprio tra 61 e 63 i livelli più alti, con le cifre di 200.000 immigrati in più al netto tra emigrazione e immigrazione ogni anno. Simmetricamente dalla parte opposta, parte bassa del grafico, vediamo come il meridione, quindi le isole, il meridione continentale abbiano aumentato anno dopo anno la quantità di persone che si trasferivano definitivamente al nord e il saldo demografico negativo aumentasse fino appunto a raggiungere un picco negativo proprio nel 1961. Evidentemente questi dati vengono in qualche maniera falsati dal quadro normativo, per cui non è un caso che il 61 sia un dato di picco, proprio perché probabilmente in quell'anno emergono una serie di situazioni illegali, irregolari, di clandestini in patria che pure esistevano negli anni precedenti, quindi tutta una serie di persone che già si erano trasferite negli anni precedenti riescono a raggiungere una regolarità amministrativa solamente nel 1961. Vediamo appunto come proprio questi anni, gli anni del boom economico, l'inizio degli anni 60, tra fine 50 e inizio anni 60, siano quelli che sono connotati da un maggior numero di spostamenti interni di popolazione. Si parla per questi anni di grande migrazione interna, si contano tra il 1958 e il 1963, quindi proprio quegli anni del boom economico, 1.350.000 iscrizioni anagrafiche nei comuni del centro nord di persone che venivano dal meridione. Quindi immaginate una quantità veramente di spostamenti importante che ha portato gli storici a parlare di questi anni come degli anni dell'effettiva unificazione sociale e demografica del paese. Se guardiamo questo grafico poi possiamo notare come negli anni successivi gli spostamenti tra le grandi ripartizioni del paese diminuiscono per poi riprendere sul finire degli anni 60. Si tratta comunque di una fase di grande mobilitazione e di spostamenti che riguardano, come abbiamo detto nella scorsa elezione, sì spostamenti dal sud al nord, ma anche spostamenti dal nord-est, dal Veneto al nord-ovest, spostamenti verso Roma, la capitale che cresce moltissimo in questi anni e in tutto il territorio spostamenti dai comuni minori e comuni maggiori, dalle campagne alle città, dalle rilievi montuosi verso le pianure e le coste. È una fase di trasformazione molto intensa che vede un'Italia agricola e industriale diventare un paese industriale di settore terziario. Proprio questi anni, in questo grafico vediamo l'andamento del numero di addetti per settore economico, diminuiscono bruscamente gli addetti nel settore agricolo, l'agricoltura diventa un ambito da cui scappare, anche socialmente viene connotato in maniera sempre più negativa, aumentano invece gli addetti nel settore industriale che comprende sia le costruzioni, l'edilizia che la manifattura e in maniera più lenta, ma poi più decisa negli anni a seguire aumentano anche le altre attività lavorative legate al settore terziario. Quindi l'industrializzazione compiuta dell'Italia significa anche una fuga delle campagne, sempre il maggior numero di persone che vivono in contesti urbani che sono legate ad attività professionali, legate all'industria e ai servizi. Tutto questo ovviamente ha bisogno di migrazioni, migrazioni dal sud al nord che iniziano a essere inquadrate dalla stampa e dai media nei loro aspetti drammatici. Qui vediamo un titolo, una prima pagina dell'Espresso del 1959 in cui si dice abbiamo il nord a l'Africa in casa, l'Italia è un'Italia sempre più, in cui emergono in maniera sempre più netta le differenze territoriali, quindi è un nord che si industrializza, che accede ai consumi, è la società dei consumi in maniera sempre più decisa, si contrappone invece a un meridione in cui c'erano delle sacche, soprattutto nei ridari montuosi, nelle aree interne di arretratezza e povertà molto evidente e gli spostamenti interni rendono evidente queste differenze proprio negli stessi contesti, perché scappano verso nord l'Africa in casa. Si inizia a mettere a tema questa diversificazione dei territoriali che era aumentata durante gli anni del fascismo e a cui il governo, i governi tentano di dare una risposta in questi anni. Appunto nei contesti urbani si vede la grande disparità sociale che è legata alle immigrazioni interne, il fenomeno delle baraccopoli, delle borgate di quelle che al nord vengono chiamate le Coree, i quartieri Shanghai, poi in tutti i centri italiani emergono, si creano queste baraccopoli, queste borgate fatte di case autocostruite, senza fognature, senza elettricità, senza servizi, in cui le persone che pure lavorano nelle città vivono in condizioni igienico-sanitarie molto molto precarie, molto difficili. Intorno a questi contesti, a queste situazioni sociali si avvieranno una serie di esperienze, anche di mobilitazione, di attivismo dal basso per cercare appunto di colmare queste distanze, queste differenze che sono così evidenti all'interno del territorio. E questo tipo di fenomeni hanno una risposta anche a livello politico. Qui segniamo come data importante il 1956, anno in cui a Torino un piccolo partito politico formato da poco, era nato nel 1955, il MARP, il Movimento per l'Autonomia Regionale Piemontese, riesce nelle elezioni amministrative di Torino a raccogliere 32 mila preferenze, avere una rappresentanza in Consiglio Comunale e a imporsi come il quinto partito cittadino di Torino, Torino che rappresentava la città industriale per eccellenza, la città della Fiat, la città dell'automobile e degli operai nelle grandi fabbriche manufatturiere. Quali erano gli slogan di questo movimento? Erano slogan come aiutare sì, mantenere no, sì all'immigrazione, no all'invasione, o ancora fuori Napoli da Torino. Questi erano gli slogan con cui il MARP fa la sua campagna elettorale, una campagna quindi improntata a una forte opposizione all'immigrazione meridionale. Sono gli anni del non si affitta ai meridionali, sono gli anni delle indagini che certificano dei grandi pregiudizi dei settentrionali nei confronti della popolazione meridionale. Ecco il MARP fa la sua campagna elettorale diffondendo anche dei gadget come questo che vediamo nell'immagine, una saponetta che doveva servire a lavare il Piemonte, quindi delle forti accenti di tipo razzistico nei confronti del sud Italia. Le persone al nord, gli immigrati al nord rappresentano il cuore del sistema produttivo e si trasferiscono, si insediano, diventano i nuovi cittadini del settentrione e con gli anni cambiano anche la società e il proprio approccio nei confronti della società. Iuki Bisognalo, uno sceneggiato RAI di grande interesse, Inicotera, girato nel 1972 e visibile anche in chiaro su RAI Play, in cui si racconta la storia di un padre di famiglia, Turinicotera, che rappresenta la prima generazione degli immigrati meridionali al nord, una generazione che ha messo al primo posto il sacrificio, la famiglia, il lavoro duro per poter far spostare anche la famiglia e poi poter assicurare ai propri familiari le migliori condizioni di vita. Turinicotera, che vediamo qui raffigurato nell'immagine, è un apprezzato e riconosciuto operaio, il membro della commissione interna della fabbrica in cui vive e ha dei figli che accedono al mercato del lavoro, chi fa la commessa, chi fa il tecnico, chi studia, ma che rappresentano la seconda generazione degli immigrati meridionali al nord, che portano con sé delle diverse domande, delle diverse aspettative. Finita la fase pionieristica, appunto la fase degli anni 50, negli anni 60 l'immigrazione, sia la prima immigrazione che l'immigrazione di seconda generazione, pone delle domande nuove alla società e all'economia, si colloca in una società che è pienamente entrata in un modello consumistico proprio dei paesi avanzati e che utilizza anche gli strumenti della sindacalizzazione e della mobilitazione sul lavoro per fare delle domande di riconoscimento e per chiedere dei diritti e non solo appunto sfruttamento e sacrificio. Gli anni 60 sono anni in cui la conflittualità operaia cresce, qui vi riporto i noti fatti di Piazza Statuto in cui si hanno degli episodi di violenza e di contestazione in piazza contro un accordo che era stato firmato dalla Will con la dirigenza Fiat e che fa scalpore, fa scalpore perché per la prima volta il conflitto si fa molto evidente e si rompe gli schemi consueti. Ecco ciò che viene detto è che in Piazza Statuto a fare quegli scontri, a sostenere quelle lotte fossero in prima fila i giovani meridionali o immigrati direttamente o figli dell'immigrazione. Ed effettivamente poi anche nelle mobilitazioni e nella stagione di forte conflittualità legata al rinnovo contrattuale dei metà meccanici dell'autunno del 1969, i meridionali saranno molto presenti, saranno molto visibili. Questo ovviamente non vuol dire che furono gli unici agenti della protesta, ma la loro condizione era una condizione particolarmente difficile, particolarmente disagiata e insieme alla componente lavorativa locale e alle realtà che si stavano creando in quella fase, movimenti studenteschi, gruppi operai e anche ai sindacati tradizionali, riusciranno a rappresentare appunto una delle componenti che daranno un contributo decisivo alle lotte operaie di quella fase che si tradurranno poi in un grande allargamento dei diritti, sia per i lavoratori dell'industria che per tutti i lavoratori, ma per la società italiana in generale. Sono gli anni questi, degli anni appunto di questo decennio, degli anni 60, in cui si modificano anche alcuni aspetti, alcune parti del paese diventano da aree di emigrazione, aree di immigrazione, in particolare è il decennio dell'emergere della terza Italia, che poi verrà compiutamente riconosciuta nel corso degli anni 70, ma che già in questo decennio inizia a diventare un'area di grande dinamismo economico, rappresentato in questo grafico dal comportamento migratorio di una regione storicamente di forte emigrazione, come il Veneto. Il Veneto qui rappresentato nella linea celeste, che vediamo essere una regione il cui saldo migratorio è ampiamente negativo per tutti gli anni 50, ma che dall'inizio degli anni 60 invece vede bilanciarsi in maniera più equilibrata il numero degli immigrati e il numero degli immigrati, raggiunge quindi una quota vicina allo zero alla fine degli anni 60 e a partire dagli anni 70 sarà una delle regioni di immigrazione più dinamiche e oggi più importanti all'interno del territorio italiano. Un comportamento simile, per quanto meno marcato e un po' più rallentato, lo vediamo per le Marche e l'Umbria, in parte anche per l'Emilia Romagna, che però ha un comportamento diverso, più vicino a quello della Toscana, che si mantiene invece un'area di immigrazione per tutto il periodo. Queste sono le regioni che poi rappresenteranno, verranno poi denominate come Terza Italia e saranno poi il motore dell'immigrazione nei decenni successivi. Cosa succede all'immigrazione italiana, quindi agli espatri, a questa grande tradizione di trovare le risorse per vivere fuori dai confini italiani in un contesto in cui appunto il dinamismo e la capacità di espansione della produzione all'interno del territorio nazionale si dimostra così forte. Ecco, si ha sempre una emigrazione molto importante con dei cambiamenti significativi. Come vediamo da questo grafico, le aree transoceaniche perdono progressivamente importanza, in viola notiamo come l'Argentina, che aveva dei grandi numeri di espatriati tra fine anni 40 e inizio anni 50, diventa sempre meno importante fino a diventare marginale nel corso degli anni 60, prendono quota invece le destinazioni europee, la Francia in una prima fase della seconda metà degli anni 50, ma poi gli anni 60 sono gli anni del grande sviluppo delle emigrazioni dirette verso l'Europa centrale, la Germania e la Svizzera e soprattutto la Svizzera. Migrazioni connotate da un modello rotatorio, un modello di lavoratore ospite che era quello che volevano le società di arrivo, cioè la Germania e la Svizzera vedono, si vedono e impostano le proprie legislazioni sulle emigrazioni sul modello del lavoratore ospite, in questo da una parte facilitati effettivamente da modelli rotatori, circolatori degli emigranti italiani, ma in parte invece si vedrà come buona parte dell'emigrazione italiana resterà poi in questi paesi, metterà radici, diventerà poi effettivamente parte della società tedesca a tutti gli effetti. Ecco nel corso degli anni 60 queste destinazioni che raggiungono un apice proprio all'inizio del vecennio, scemano, diventano regioni, diventano aree di emigrazione sempre meno importante fino alla fine degli anni 70 in cui si raggiungerà un minimo, dei dati abbastanza bassi. Sono anni in cui l'emigrazione italiana continua a registrare delle tragedie, vi segnalo qui il crollo di un ghiacciaio a Matmark nel cantone vallese che distrugge il cantiere dove si sta vedificando una imponente diga, uccidendo 88 lavoratori di cui 56 italiani. L'immigrazione italiana quindi è sempre un'immigrazione che porta con sé un carico di sofferenza che si emerge evidente anche all'opinione pubblica in questi momenti di tragedia ma appunto in questo decennio sta modificando le sue caratteristiche. Sarà appunto questo il decennio poi dell'inizio dell'immigrazione straniera in Italia, immigrazione lavorativa straniera in Italia a partire dalle due aree di confine della Sicilia e del nord-est. Ma di questo questo argomento verrà trattato nella prossima lezione. Concludo con un libro utile per chi vuole approfondire, un'inchiesta svolta da Franco Alasia e Danilo Montaldi, edita nel 1960 dal titolo Milano-Corea, inchiesta sugli immigrati, che ha avuto una recente edizione da parte di Donzelli editore con un'importante introduzione dello storico Guido Crimes. Per domande e curiosità, per ulteriori approfondimenti, mi potete scrivere al mio indirizzo stefano.gallo.ismet.cnr.it. Grazie per l'attenzione, rinnovo l'invito a iscrivervi al canale YouTube del CNR Ismed e vi rimando poi alla prossima video-lezione. Grazie a tutti.